Un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha di recente fatto una tristissima confessione ai suoi fan che si sono stretti attorno a lei. Mentre stiamo attendendo la nuova stagione di Uomini e Donne che arriverà come sempre in autunno, un'ex corteggiatrice ha fatto un annuncio davvero triste. I suoi fan da un lato se lo aspettavano quindi la notizia non è stata un fulmine a ciel sereno al 100%, ma comunque i fan si sono stretti intorno a lei. Ecco di chi si tratta, Uomini e Donne, brutte notizie per un'ex corteggiatrice, Uomini e Donne ogni anno sforna coppie, alcune riescono a resistere al tempo che passa, agli avvenimenti, alla popolarità, altre no. Abbiamo visto negli ultimi anni nascere, morire, migliaia di amori, alcuni ci hanno fatto sognare davvero, altri sono stati contestati, altri ancora non hanno riscosso molti consensi. Eppure alla fine tutte le persone che escono da Uomini e Donne riescono ad appassionare gli spettatori del dating show, che continuano a seguirne le vicende anche dopo e che, anche nei tempi bui, continuano a stare vicino anche se virtualmente ai loro beniamini. In effetti un'ex corteggiatrice di recente ha fatto una confessione davvero molto triste e tutti i suoi fan le si sono stretti attorno. Ecco di chi si tratta, ecco di chi si tratta, un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha di recente fatto una confessione molto triste ai suoi fan. In effetti molti si aspettavano già che sarebbe arrivato questo momento e quindi per molti non è stata affatto una sorpresa leggere le sue parole. Parliamo ovviamente di Valeria Cardone che ha annunciato la fine della sua storia con Matteo Ranieri. In una storia su Instagram ha infatti scritto, io e Matteo non stiamo più insieme. Purtroppo le cose non vanno sempre come speriamo. Vi chiedo solo un po' di comprensione, perché non sto passando un bel periodo. Questo messaggio è arrivato dopo settimane di notizie, voci, illazioni sulla coppia e, soprattutto, sulla sua rottura. Da giorni infatti si parlava del fatto che i due in realtà non stessero più insieme già da un po', ma che non volessero ammetterlo pubblicamente. Addirittura si era parlato di una presa in giro dei due ex protagonisti di Uomini e Donne e i danni dei loro fan, dal momento che avrebbero fatto di tutto per cellare il loro allontanamento per poter continuare ad avere consensi. Ovviamente queste erano solo voci e da rispondere a tono ci ha pensato lo stesso Matteo Ranieri. L'extronista, infatti, ha pubblicato alcune storie, in cui ha esordito dicendo di essersi allontanato dai social perché aveva bisogno di staccare. Di recente sappiamo che è stato in viaggio con la sua famiglia e quindi ha ammesso di aver approfittato di questa vacanza per allontanarsi un po' da tutto. Ranieri ha ovviamente parlato della sua rottura con Valeria, spiegando che la decisione definitiva sarebbe arrivata solo al suo rientro e che da parte di nessuno dei due oggi c'è rancore ed ha assicurato di avere un bellissimo ricordo di Valeria. Ovviamente Matteo ha anche voluto rispondere alle accuse di chi avrebbe voluto sapere prima della sua rottura con la ormai ex fidanzata e da questo proposito ha detto L'aver scelto di conoscere una persona davanti le telecamere non mi rende vincolato né tantomeno moralmente obbligato a dover raccontare tutto quello che succede nella mia vita privata, specialmente quando si tratta di situazioni intime e delicate come questa. Non mi interessa farci gli show. Insomma, era lontanissima da lui l'intenzione di mentire, ma la sua volontà era semplicemente quella di affrontare questa delusione da solo in privato per poi confessarla a tutti i suoi fan.